...i secoli fa, sotto quell'insegna, sulla porta Flaminia che ancora porta l'iscrizione di via Sandro VII in onore del suo arrivo a Roma. Ci fa stocco ingresso su quello che si è scritto nel porto del totolo in occasione del suo arrivo. Saluto intanto la dottoressa Galiani della Polizia di Stato a Cavallo che è con noi, anche lei, così come abbiamo sentito tutti gli altri corpi. Io la ringrazio molto per essere qui, la Polizia di Stato a Cavallo ha fatto una presentazione molto particolare, c'è un protagonista negli anni passati, ha portato le divise d'epoca, sin da quando era ancora milizia, fino ai tempi del servizio attuale, ancora indispensabile nei parchi e in tante altre dimostrazioni e non solo nel cerimoniale. Vedremo scelare tre passuglie, una passuglia con l'equipaggiamento ordinario e due passuglie con le divise storiche, una degli anni 70 e una degli anni 40, sono i formi originali della Polizia di Stato. Grazie sempre tanto per la vostra collaborazione e per essere con noi per questo grande evento.